Il caldo tipicamente estivo di questi giorni non scoraggia i cittadini. Alcuni di loro ci hanno raccontato come lo stanno affrontando. Io ho una casa con il giardino, chiudo le finestre, rientro a casa dopo il mare, sto benissimo. Io ho la fortuna di avere la via dove abito molto ventilata, quindi sto benissimo. Io non ho problemi nel caldo, sto bene lo stesso. Non ho la casa con il giardino, ma in compenso ho il climatizzatore in casa. I medici raccomandano di bere molto, lei lo fa? Normale. Ho un piccolo ventilatore, ma siccome siamo io e mio marito, ognuno se lo prende. I medici raccomandano di bere molto, lei lo fa? Secondi giorni, un giorno bevo molto, l'altro giorno insomma. Bevo molta acqua e poi vado al mare, mi faccio una nuotata e adesso c'ho la bambina che mi porta a spasso lei. Poi io sono stato uno che sono stato in Arabia Saudita, perciò il caldo mi sta bene. Si va giù al mare e si beve lì. A casa tiene il ventilatore? Niente, 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 niente. Perché a casa non ci stiamo mai, né io né mia moglie, tantomeno i figli. E quindi facciamo la vita da signori, stiamo fuori e ce la passiamo così. Così come sono, sopporto e vado avanti. Al mare ci va? Ci voglio andare, ma non ci vado. Spero di andarci. Esco la mattina alle 5 e mezza, faccio due chilometri di camminata e poi sto bene tutto il giorno. Ecco, il mare ci va? Adesso, adesso sto andando.